Come fare una ricerca in Excel? È molto semplice, andiamo nel menu Home, andiamo nel riquadro modifica a destra, trova e seleziona Trova. In questo box che compare potremo fare la ricerca di quello che noi andremo ad inserire qui, quindi questo testo verrà ricercato all'interno del foglio di lavoro se lasciamo questa opzione, oppure all'interno della cartella di lavoro. Su cerca diamo la priorità di ricerca quindi per riga oppure per colonna, su cerca in possiamo scegliere se cercare il contenuto di una formula, quindi proprio il contenuto che scriviamo all'interno di una formula, oppure il suo valore risultante oppure un valore standard come questo. Possiamo fare anche la ricerca all'interno delle note oppure dei commenti. Qua se in cima c'è il formato, ad esempio se andiamo sulla linguetta e facciamo scegli formato cella e clicchiamo su questo 200€, significa che se noi andiamo qui e scriviamo un numero, ad esempio 23, faremo la ricerca solo sulle celle che hanno quel determinato formato che abbiamo selezionato.